in questi giorni mi è arrivato un telefono nuovo ovvero l'iPhone 11 Pro da Swappi, una compagnia finlandese che vende telefoni ricondizionati ovvero riutilizza vecchi telefoni per farne essenzialmente di nuovi non solo in questo modo vengono riciclati quei telefoni che diversamente finirebbero nelle discariche ma per la produzione di questi telefoni sono ridotte le emissioni di CO2 e vengono recuperati quei materiali che altrimenti andrebbero estratti dalle miniere le miniere spesso sono situate in zone di conflitto, inoltre danneggiano l'ambiente quindi scegliere un telefono ricondizionato è innanzitutto una scelta intelligente per l'ambiente proprio perché si recuperano comunque dei materiali che già esistono, già sono in commercio ma poi è una scelta furba un po' anche per i portafogli innanzitutto avete in mano un telefono veramente nuovo è a tutti gli effetti un telefono nuovo sul sito sono riportati vari gradi diciamo di qualità che si riferiscono esclusivamente ai piccoli inestetismi estetici che possono esserci sul telefono il mio per esempio io non saprei distinguerlo da un telefono nuovo nuovo i cellulari vengono poi sottoposti a numerosi test e banalmente una cosa che preoccupa spesso è la batteria sappiate che non vengono mai utilizzate batterie con una performance diciamo inferiore all'80% quindi in mano avete a tutti gli effetti un telefono nuovo risparmiate perché è un telefono ricondizionato comunque costa qualcosa in meno rispetto a un telefono nuovo e poi come vi dicevo fate bene anche all'ambiente perché in questo modo non vengono prodotti dei pezzi dei telefoni nuovi ma si recupera quello che già c'è io prima avevo un iphone 8 quindi il salto di qualità per me è stato veramente non sto nemmeno a dirvi come ho utilizzato da subito il telefono ovvero mille foto video ai gattini se magari avete bisogno di cambiare telefono volete farvi un regalo e state pensando a una scelta un po' più diciamo sostenibile vi lascio qua sotto in descrizione il sito di swappi e con il mio codice sconto chibistheway avrete 10 euro di sconto ho un codice non affiliato quindi io non ci guadagno nulla vi posso soltanto dire insomma la mia esperienza è arrivato praticamente due o tre giorni dopo che l'ho ordinato perché ho fatto l'ordine nel weekend quindi è arrivato il lunedì dopo e come vi dicevo è perfetto in tonso in questi giorni ho terminato la lettura di strange edito bow publishing di yuru kutsukui una raccolta di 6 storie che mi aspettavo tipo boys love in realtà non è proprio così non sono necessariamente delle coppie omosessuali sono coppie tra virgolette di uomini che possono essere amici, conoscenti, compagni di classe o appunto esserci magari dell'interesse però ecco non necessariamente e questo rende secondo me la raccolta molto più variegata perché si indagano diciamo diversi aspetti del rapporto che si può avere fra uomo e uomo quindi appunto l'amicizia fra uomini la prima conoscenza, il primo interessamento non necessariamente un interesse romantico inoltre le storie narrate sono veramente carinissime a parte una che magari mi ha lasciato un po' più indifferente le altre mi sono piaciute tantissimo proprio perché le ho trovate abbastanza reali o comunque più vicine alla realtà rispetto ad altre storie che spesso sono stereotipate e ha quel vibe da boys love senza però esserlo totalmente non so come spiegarlo sono delle storie che ti fanno emozionare che ti intrattengono ma che sanno anche lasciarti qualche cosa che può essere semplicemente speranza, un sentimento comunque positivo o magari farti riflettere su alcune situazioni molto molto bello quindi è uno dei più bei manga letti quest'anno devo dire ed è stata totalmente una sorpresa perché non pensavo potesse piacermi così tanto il tratto poi a differenza di altri fumetti della collana I Can't Die Ball l'ho trovato più vicino al stile mainstream passatemi il termine quindi meno particolare meno diverso rispetto ad altre opere però comunque molto delicato anche nel rappresentare comunque i ragazzi non sono troppo femminei ma sono comunque molto delicati hanno dei tratti comunque dolci e niente io sono rimasta molto affascinata da questo fumetto quindi non posso far altro che consigliarvelo a presto Grazie a tutti. Ciao, baby. Non mi sembri molto convinta, baby. Peace. Non mi sembri molto convinta, baby. Non mi sembri molto convinta, baby. Perché purtroppo il giorno d'oggi ci sono tantissime relazioni di questo tipo. Può capitare di imbattersi in una persona che ti fa stare in questo modo. Non soltanto a livello sentimentale, ma mi vengono in mente tanti tipi di amicizia. Almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale ho avuto delle relazioni d'amicizia tossiche. Comunque, a parte questo, molto interessante la premessa. A me piace molto poi questo tratto. C'è un tocco di rosa nelle pagine che secondo me rende anche un po' più, tra virgolette, giovane. Il fumetto alla fine è la protagonista, se non sbaglio, a 17 anni. Quindi pieno periodo adolescenza, tutto è vissuto al massimo. È tutto o niente. Però ecco, mi aspettavo più profondità, emozione. Non so, sono rimasta abbastanza indifferenti. I personaggi, vabbè, mi hanno irritata. Però anche a livello di storia mi aspettavo qualcosa di più. Proprio, non so come spiegarlo. Speravo che venisse approfondito di più, che ci fosse un percorso un po' più marcato. Quindi sono rimasta un tantino me, nonostante appunto la tematica molto interessante. Il fumetto invece che mi ha sorpresa tantissimo, che ho adorato, è A Ondate. Questa è una storia personale dell'autore che si mescola alla storia del surf. Una cosa molto molto interessante. Tra l'altro questa divisione avviene anche cromaticamente. Perché la storia personale è su questi toni blu che rendono tutto ancora più triste, se vogliamo. Mentre la storia del surf ha dei toni, diciamo, più neutri. E viene raccontata la storia del surf, intendo, in maniera molto semplice, molto efficace. Anche per chi appunto non ha mai silenzio il telefono, per chi non ha mai approfondito. Io ad esempio non ne sapevo nulla. È stato per me molto interessante avere qualche accenno storico. Banalmente anche la tavola della surf, come è nata, come si è evoluta, eccetera, eccetera. E trovo che la fusione fra la storia del surf e la storia personale dell'autore, che racconta non tutta la sua vita, ma un episodio in particolare, una relazione che comunque l'ha segnato e che, diciamo, è un capitolo bellissimo, ma anche molto doloroso della sua vita. C'è un parallelismo perfetto, secondo me. E la storia è come se ti cullasse, letteralmente, fra le onde. È difficile da spiegare come sensazione, ma io ho provato esattamente questo e ho trovato quindi tutto perfetto e magico. E la storia personale dell'autore è molto toccante, molto emozionante. Anche verso il finale trovo che abbia trovato le parole perfette per descrivere la sensazione di perdita, di lutto e soprattutto di dolore, che arriva a ondate, appunto. C'è sempre, ma appunto va e viene come un'onda. E ho trovato questo veramente spettacolare. Altro titolo che ho finito e che mi ha lasciato un po' così è Denti di Leone di Kawabata, romanzo incompiuto. Devo ammettere la mia ignoranza in questo perché ho scoperto che un romanzo incompiuto una volta che l'ho avuto fra le mie mani. Mi incuriosiva parecchio perché mi era piaciuto molto, o abbastanza, almeno, Millegru. La copertina mi richiamava poi l'edizione con io di Millegru, lo so è una cosa totalmente superficiale. Però ero molto curiosa, soprattutto per approfondire a quest'autore che comunque nella letteratura giapponese è molto importante. Anche qua, premesse molto interessanti. Una ragazza che viene portata in manicomio dalla madre e dal fidanzato. E noi seguiamo una serie di conversazioni fra la madre e il fidanzato. Che parlano non soltanto della figlia fidanzata, dei primi sintomi, della probabile origine della sua malattia. Ma attraverso i loro discorsi capiamo un po' meglio come sono questi personaggi, che cosa pensano del mondo, della vita, della famiglia, della malattia, del dolore, eccetera, eccetera. Non essendo compiuto non c'è una vera e propria svolta nella storia. Non c'è tantomeno una conclusione. Quindi mi sarebbe piaciuto leggere qualcosa in più. È molto bello perché i personaggi vengono costruiti attraverso le loro conversazioni. E anche se spesso magari non mi sono trovata d'accordo, ho trovato certe riflessioni un po' strampalate, molto probabilmente per l'epoca e comunque la cultura, differenti. È interessante secondo me quando i personaggi vengono costruiti in questo modo. Quando sono loro a dimostrarci come sono e non ci viene raccontato dall'autore come sono in realtà. Però ecco, mi sarebbe piaciuto sapere qualcosa in più, arrivare almeno a una svolta, a un qualche cosa. Non semplicemente sentirli chiacchierare del più e del meno, ecco. Viste soprattutto le premesse. Quindi sono rimasta un po' in sospeso. Sono stata lasciata in sospeso pure io. Finito l'aggiornamento di letture, volevo farvi vedere alcuni vestiti che ho comprato in questi giorni da Zara e Osho. Sono sia abitini che pantaloncini. Ed era tipo quasi un anno che non compravo niente di vestiti. Non vorrei dire una cavolata, però era tantissimo che non facevo così shopping. E sono molto molto contenta e soddisfatta di quello che ho acquistato. Ciao! Grazie a tutti Anche oggi un nuovo aggiornamento di lettura Ho terminato Casane, il primo volume di Daruma Matsura Un fumetto che non ho visto molto girare Quindi non sapevo bene che cosa aspettarmi Sono rimasta molto molto colpita Ho anche scritto un post sulle mie prime impressioni Quindi cercherò di essere molto breve qua In sostanza la protagonista è una bambina bruttina Col volto sfigurato che ironia della sorte Figlia di un'attrice nota per la sua bellezza Che è morta però molto giovane Che quindi l'ha lasciata da sola Lei è presa di mira a scuola dai suoi coetanei Fa fatica a integrarsi Non è accettata da nessuno Solo per il suo aspetto fisico La madre le ha però lasciato un rossetto E una volta indossato questo rossetto Baciando ciò che desidera Potrà appropriarsene Potrà prendere quello che vuole veramente Quindi scopre che baciando delle persone Può assumere il loro viso E questo la porterà a sperimentare per la prima volta Che cosa significa essere belli Essere accettati e apprezzati dagli altri È un fumetto che si basa molto sulle apparenze La superficialità, l'aspetto Secondo me c'è anche una forte critica alla società Si parla di bullismo Ma la cosa che secondo me è più di un patto È proprio la profondità di Casane Dal momento che è sempre sola Sempre lasciata a se stessa Coltiva dentro di sé tanti dubbi Tante domande E è diciamo costretta anche a crescere Più velocemente rispetto agli altri Quindi ha veramente un mondo dentro E noi non possiamo fare altro che tifare per lei Anche se non è l'eroina di questa storia Molto molto di impatto È anche abbastanza crudo in certe scene Cioè sono rimasta veramente sorpresa Rimango un tantino perplessa Sul fatto dell'aspetto diciamo magico Di questo realismo magico E di come effettivamente poi la ragazza Riuscirà a scavalcare l'ostacolo Dell'essere brutta Come farà poi ad andare avanti A integrarsi Ad avere dei rapporti con le altre persone Perché comunque all'inizio è una bambina Poi la vediamo già adolescente Quindi cresce Ho scoperto che in Giappone sono 14 volumi È già conclusa la serie Che non sono pochissimi Quindi sono veramente curiosa E nulla Credo di non avere nient'altro di interessante Da farvi vedere O di cui parlarvi Quindi vi saluto qua Spero come al solito Che questo video vi sia piaciuto Che vi abbia tenuto compagnia E noi ci vediamo alla prossima Ciao